Ci è stata affidata una missione davvero importante, dobbiamo allenare il ninja più schiappa di sempre Ma con il nostro aiuto diventerà il più forte di tutti i tempi E ragazzi, come va? Io sono Feriniki E io sono Stef, e che si giochiamo a Clampsy Ninja? Ebbene sì, oggi siamo in questo fantastico gioco dove avremo un piccolo tenerissimo discepolo Che dovremo allenare e far diventare il ninja più forte del mondo Non è piccolo e tenero, è un assassino spettato Guardalo come minuscolo, poverino, poi con questi occhioni dolci dolci, ma che vuole fare? Ma che vuole fare? Allora, i ninja fanno paura e sono proprio timorosi Quindi, devi dire che è cattivo, letale Sì, assolutamente, guarda, ti viene da ridere solo guardandolo Quindi non ci provare a farlo sembrare così letale Non abbiamo speranze Ehi, ma poverina Ma povero L'hai steso e ti ha dato anche esperienza a stenderlo, ma come? Allora, vieni qua dai, vieni qui Ok, bravo, bravo Facciamo pace, dai, presentiamoti bene Aspetta che ti do una carazzina Bravo Chi è il nostro ninja? Chi è il nostro ninja preferito? Sei tu Stai degenerando Lo so Non abbiamo neanche iniziato, stai già degenerando Allora, praticamente, questo giochino non so quanti di voi lo conosceranno, ma è davvero fantastico Abbiamo davvero un ninja Il nostro obiettivo è quello di, appunto, addestrarlo, ma per ora è una schiappa È una schiappa a saltare nel trampolino A dare pugni ai calci Ha anche una storia questo gioco Praticamente la sua migliore amica Kira È stata rapita e quindi lui punta a diventare il ninja più forte per poterla ritrovare, capito? È molto serio questo gioco Lui ha delle intenzioni proprio serissime Allora smettiamo di scherzare qua Quindi smettila di accarezzargli la testa Perché lui vuole essere preso seriamente Ok, guarda, chiedo perdono a tutti Ora facciamo sul serio Addestramento serissimo Allora, cosa dobbiamo fare? Sollevami in alto con una mano Ok, e questa dovrebbe essere una cosa seria Siete sicuri voi? Siete sicuri? Sollevami in aria per la mano e fammi una foto super ninja Eh, vabbè, ma si sta emozionando qua Se lo dici tu Ok, cosa devo cliccare? Questo Sì Cheese Non sei proprio super ninja Cioè, lasciatelo dire Questa foto la manda a tutti i suoi nemici per fargli paura Sì Proprio, ok Quando gli fa, guarda Non farmi arrabbiare, prendili e manda questa foto E tutti i nemici No, no, scusa, scusa Mi arrendo Mi arrendo Troppo forte, soprattutto con quel palloncino rosso Fai troppa paura Allora, come prima cosa Ho sbagliato Facciamo l'allenamento serio, signor ninja Prima cosa Trampolino Vai sul trampolino Ho scoppiato il palloncino Dai, amico mio Si trattava solo di correre Sei giampato nei tuoi stessi piedi Come si può fare? Come? Ok, la salita mi è piaciuta Fammi vedere adesso come salti Sì, dai Non è male Non è male Potrei stendere un po' più in alto La cosa che mi fa ridere è che gli devi muovere tu il trampolino Se non cade Ecco qua Sì, 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 sì Ok, ci siamo Questo è il ritmo giusto Lavora con quelle gambe Bravo Sì, sì, mi piaci Mi piaci Oggi si è svegliato bene In forma Guardalo Adesso proviamo con il sacco da box E vediamo come va con i pugni e i calci Ok? Perché quello so che è un po' il tuo punto debole di solito Vai Sei pronto? Vai Facci vedere Bene Bene, bene Ok Bravissimo Sì, sì, sì Non cadere almeno Dai In piedi Su Tra un sacco da box E lui Così i pugni Dai Ecco, bravo Uno è andato Due, tre Bravissimo Ancora uno, quattro Cinque Bravo Sei Sette Che potenza Che sequenza di pugni incredibile Incredibile proprio Quasi lo bucava Sì, no Quasi lo spaccava in due Incredibile Sì, sì, sì Bisogna tenerlo calmo Perché è un pericolo per tutti Allora vuoi il cinque, vero? Ecco Tieni, dai Te lo sei meritato Adesso Vediamo un pochettino Le angurie le abbiamo già sbloccate Fammi vedere Livello sette Siamo a livello sei Ok, allora ci dobbiamo allenare un altro po' E dopodiché ci sblocciamo Ma le angurie le tiriamo in testa? Non so Non lo so Non me lo chiedere Ma le deve spaccare con la testa Capito? Dici Per allenarsi da testate Ma sei sicura? No Ok Gli hai preso il trampolino nuovo? Sì, questo è il secondo trampolino Ok Dove si salta più in alto Quindi è più pericoloso Però migliora di più Guardalo infatti Guarda quanto va in alto Guarda che voli Ando il volo Voli Attento Che cos'era quella? Una mossa di ballo Un egiziano Cos'era? Non so Che tipo di allenamento è questo Indovina cosa dobbiamo fare? Dobbiamo lanciare lui Anziché un pallone Esatto E fare canestro Io non so cosa lui può imparare Da un esercizio simile Probabilmente Ascoltami Ascoltami Sei tipo un nemico Lo sbalza via Dandogli un pugno Lui riuscirà Capito A volare A fare canestro A fare canestro E non cadere Capito? Non fare disastro Ok Allora mi concentro E lo faccio bene Sei pronto ninja? Allora Ti prendo così No Così No è sbattuto di testa Scusami Scusami Non è facile Perché pesa parecchio Allora Eh ho notato Sollevalo bene Troppo Troppo Poverino Torna qui Vieni 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 da bravo Ma dai è difficilissimo Lo sto solo torturando Poverino Non abbiamo scelto il suo nome È vero Come lo chiameresti? Gli possiamo dare un nome Oppure no Ce lo inventiamo e basta Ce lo inventiamo Ti viene in mente qualcosa? Adesso ti A parte ovviamente Super ninja letale Ma quello è troppo scontato Per la sua faccia Guardalo Si è anche messo così Mentre che l'hai detto Non Cioè è troppo scontato Come nome Ti sono venuti privilegi Dalla paura Le darai un altro Secondo me Non so perché Ma io quando lo vedo Ho pensato a Topo Gigio Ma non lo puoi chiamare Topo Gigio Topo Gigio è un'altra cosa Però quando lo vedo Ho pensato a Topo Gigio Io non so perché Allora lo chiamiamo Gigetto Gigetto vai Gigetto Facciamo un bel canestro Sei pronto? Vai Aspetta No non mi piace Devo tenere da qua Vai Lascialo sopra E poi lo molli Esattamente sopra E lo molli Vediamo Tanto non c'è bisogno Di tirarlo Ecco qua Ok Adesso si spiega tutto Io cercavo di fare il figo Facendo il canestro da lontano Ma basta Acchiapparlo Buttarlo dentro Eh vabbè Ma ti spacco la faccia Te l'ha dato però Te l'ha dato Non si sa come Vai di nuovo dentro Ok questo allenamento è finito È stato utile Sì Ti è piaciuto? Ci fa piacere Il ninja ha dimostrato le sue abilità È tempo di passare a un trampolino più sofisticato Ma ce l'abbiamo già quello caro Ok allora Manca poco livello 7 Che vediamo lì in alto Però Tieni il 5 dai Così sei felice Io farei qualche allenamento diverso Tipo questo lo possiamo già fare Livello 10 Ok non ancora Ne manca di tempo mio caro ninja La gallina che serve Vediamo Non lo so Livello 10 Peccato Vabbè ma tutto è 10 Sarei stato curioso di vederlo Allora usiamo questa Praticamente diventa un tornado Inizia a girare su se stesso A che pro Non l'ho mai capito Per quale motivo Però lo puoi anche far volare Vedi È bello no Guarda 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 Che bello guarda Sembra una ballerina Spaccata nel cielo Mamma mia È un Beyblade Vai Cioè guardate la barra dell'esperienza È finita E invece non siamo ancora a 7 Ma che sfiga Facciamo un altro po' di basket Sei contento ninja Vai 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 Non mi sembra molto felice Ecco qua Soprattutto solo per scadere faccia a terra Poverina È sbagliolato Forza ninja Torna qui Forza Da bravo Anche se non gli voglia Su No non si fa così Te l'ho insegnato bene Bravissimo Livello 7 Bravissimo Cosa abbiamo sbloccato Abbiamo sbloccato Di sicuro E che sono queste cose Non lo so Dovremmo vedere Raccogli Ok Che succede Che succede Ah quindi danno la nuova cintura Oppure no Forse sì Forse sì Oh yes Celeste Celeste Bella 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 È felicissimo Li voleva dare un abbraccio Però sei un po' imbarazzato Il maestro ha detto Stavamo tutti fissando Quindi ha detto no In un altro momento Adesso Quindi abbiamo sbloccato l'anguria Sì Ok Ok 600 di exp ci dà Che bello Ti servono più monete Perché 120 Noi ne abbiamo 100 Esatto esatto E come guadagniamo le monete Abbiamo i soldi che ci mancavano Dammi il 5 ninja Oh yes È tempo dell'anguria Allora andiamo 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 Angurietta Chissà che serve Non ne ho proprio idea Però da 600 di esperienza Che è una roba Fortissima Gliela lancio e lui la colpisce Credo di sì Ma è più bello di quanto immaginassi Allora Sei pronto? Sì È prontissimo Vado Gli va in faccia vero? Canestro Ok Oddio Ok dai No ce la può fare Non era male Sono fiduciosa Ce la può fare Puoi fare di meglio Ok Quella non era proprio una mossa Non respinge come se fosse una zanzara Così Sì Vediamo così Ok dai dai Lei è almeno scansata Meglio se non la usi la testa Ok Le angurie sono dure Ops Scusa Scusa Oh Mamma mia Ma c'ho sorpreso sul finale qui Com'è possibile? Senza manco guardarla Guardarla Mossa ninja sbloccata Bravo Come si chiama questa mossa? Vediamo rovescio Mi piace Sì Progresso esperienza Stavo leggendo Pensavo fosse il nome della mossa That's fail Feriniki Vabbè Vabbè Torna a casa che si ubriaca Troppi dei lamenti ninja Capito? Troppe cose da vedere Assolutamente Questa anguria ha regalato grandi emozioni Vediamo un attimino Questo qua è un regalo che ci fanno Casca dal cielo E noi lo facciamo aprire al ninja Vediamo cosa c'è Aprilo Aprilo su Vai 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 Lo apre con un calcio Va bene Un pallone Un pallone Ci puoi giocare? Sì che ci può giocare Aspetta Spostalo un po' Esatto Vai Tira Insegui la palla Vai Bravo Ho 50 di esperienza Sembra a me quando gioco a calcio Uguale Uguale Vai ancora a prenderlo che dà 50 di esperienza Bravo Bravo Continua Continua che saliamo in callotto Ma sei bravissimo Sei un calciatore nato Se magari non la manchi Ok grazie Dovresti fare il calciatore non il ninja Guarda Talmente sei bravo Sembrava Lionel Messi Guarda Uguale 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 Nel dribbling Non ho notato differenza Che gocce d'acqua Vai facci vedere se sei migliorato Girati 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 Bravo Vai pugno Ok Sì ti sbilancia ancora troppo Però cerca di dargli un po' Capito No vedi Soprattutto i calci Un po' più energetici Ok bravo Uno Due Guarda però che ritmo che hai Visto Adesso gli da più veloci Guarda come si muove anche con le gambe Questo era potente Bello Questo era potentissimo Bravissimo Vai ancora Ne vogliamo un altro potente Ora Hai un nuovo nemico signor ninja Sei pronto a neutralizzarlo È molto potente Molto forte E soprattutto letale Sono quelle scatole lì dietro Vai Spaccale Le ho buttate giù io però Dannazione Ma così le spacchi dopo domani Se casse Devi dargli una testata Per oggi ti abbiamo allenato abbastanza Quindi questo è l'ultimo esercizio Vogliamo vedere delle mosse incredibili Come il rovescio Che ci hai mostrato una volta Sei pronto? Non mi sembri tanto pronto Ma io tiro Vai No è prontissimo Ok Ok Dai un bel colpo su Un colpo più potente Vai Ok Quello è quando tocchi una vecchietta Per spostarla Facci vedere un pugno Su Dai ora Bravissimo Bravo Senza neanche guardare Ma se glielo metto in una posizione giusta Lo fa sempre Non lo so Non capisco Va bene Ok Sei stato bravissimo Nessuno sta ridendo Sei stato fenomenale No stiamo ridendo Perché siamo felici Che sei talmente bravo Esatto Esatto Si vedono i progressi Guarda Secondo me Uno o due giorni E sei il ninja più potente di sempre Puoi stare tranquillo Te lo assicura Steph Comunque dai ragazzi Ci fermiamo così per questo video Speriamo che vi sia piaciuto questo gioco Vi mettiamo un sondaggio Per vedere un pochettino Se magari lo vorreste di vedere Di sicuro Non ci facciamo una serie Però Un episodio ogni tanto Può essere simpatico Un gioco davvero carino Scaricatevelo Perché è divertente E direi di fermarci così Diventerai il ninja più potente Puoi stare tranquillo Sei nelle nostre mani Bene che ci riesco Sì se è tutto Sieteci un like E questa è la prima volta Che vi vedete il nostro video Potete considerare l'idea Di iscrivervi Per non perdervi gli altri episodi Ciao E alla prossima Ciao 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 Ciao